I militari della compagnia di Monopoli hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari a carico di nove persone, di cui due finiti in carcere, tre ai domiciliari e quattro con obbligo di firma, residenti nel comune di Alberobello e nelle province di Brindisi e Monza, Brianza, indagati a vario titolo per concorso nello spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni aggravate e danneggiamento. Il provvedimento è stato emesso a seguito delle risultanze investigative raccolte dalla stazione dei Carabinieri di Alberobello su un gruppo composto dalle attuali indagati, derito allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino e nei paesi limitrofi. L'indagine, coordinata dalla locale procura della Repubblica, è stata avviata nel mese di aprile 2017, quando presso la preletta stazione è stata raccolta la denuncia per lesioni di un assuntore abituale di stupefacenti, accusato di non rifornirsi più dagli odierni indagati e perciò perseguitato dal gruppo con minacce e intimidazioni, tra le quali atti vandalici presso la propria abitazione, culminate in un violento pestaggio. L'attività investigativa dei militari, concretizzatasi con attività tecniche, dinamiche, riconoscimenti fotografici, servizi di osservazione e pedinamenti, nonché mirate perquisizioni personali e locali, ha permesso di appurare l'esistenza di un gruppo di giovani appena maggiorenni, già noti per piccoli precedenti specifici, dediti allo smercio di droghe sintetiche e leggere, nonché cocaina, con l'obiettivo di diventare i principali referenti sul territorio di tale traffico. Le attività di spaccio avvenivano nella villa comunale cittadina o negli istituti scolastici, mentre in una circostanza è stata documentata la cessione di cocaina presso un rave party organizzato in provincia di Lecce. La clientela che si riforniva dal suddetto gruppo era composta prevalentemente da studenti, che potevano contare su una rete di fiancheggiatori, anche in grado di curare eventuali malesseri derivanti dall'uso dei sostanze stupefacenti. Per gli ex clienti e per coloro che erano sospettati di fornire informazioni alle forze dell'ordine, partivano le ritorsioni da parte di alcuni componenti del gruppo. Nel corso dell'attività investigativa sono state sequestrate numerose dosi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 80 grammi, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.